Oh no, ciao a tutti ragazzi, io sono Virgins di Gaming Toonet e benvenuti in questo nuovo video. Ho fatto un post un po' di tempo fa, insomma, diciamo, adesso, da oggi che è 6 maggio, il post è stato fatto una settimana fa. Non so questo video quando uscirà, penso la settimana dopo, il 6. In ogni caso, oggi siamo su un video di Q&A, perché avevo fatto un post dove vi chiedevo, appunto, di farmi delle domande alle quali io avrei risposto. Non cagherò minimamente, ragazzi, i commenti con cosa ne pensi di questo o quell'altro mazzo. L'ho anche scritto nel post, ma me li avete scritti comunque, me lo aspettavo, nulla da dire. Perché, ragazzi, perché ci sarà una serie a parte su quella cosa che avrà un inizio e una fine, si pensa. E quindi, di conseguenza, aspettate direttamente quella, è un'idea figa che durerà abbastanza, mettiamola così. In ogni caso, Q&A era tanto che non lo facevo e quindi, di conseguenza, incominciamo a vedere quali sono le domande che mi avete proposto. Prima domanda da Chiello96. Fino a quanto pensi di portare avanti il canale? Cioè, pensi che un giorno potresti stancarti di Yu-Gi-Oh con conseguente chiusura del canale? Wow, allora, ragazzi, bisogna essere onesti. Le passioni non sono fatte per durare per sempre, di solito. Cioè, non c'è in nessun modo un momento nel quale, una vita, non penso ci sia, una vita nella quale tu, dall'inizio alla fine, segui una passione, almeno da un momento in poi segui una passione fino alla fine. Fino alla tua morte o fino alla morte della passione, insomma. Cioè, della cosa, non lo so. Uno è appassionato di Magic, segue Magic, finché Magic non chiude i battenti. Non esiste una passione del genere che sia effettivamente duratura per sempre. Quindi, di conseguenza, tutto può succedere, ovviamente. Può succedere che io decida che Yu-Gi-Oh non fa più per me, quindi di conseguenza dico fanculo Yu-Gi-Oh. Nel caso di League of Legends la passione per quel gioco è durata tipo due anni. Due anni e... sì, due anni. Per quanto riguarda Yu-Gi-Oh siamo già praticamente a tre e non ho minimamente intenzione di abbandonarlo al momento. Anzi, continuo sempre a farmi mazzi nonostante dica ne ho troppi, ne ho troppi. Qua c'è pure Wind Up che sto completando, quindi... Niente, e quindi di conseguenza... Allora, sicuramente potrebbe un giorno passarmi questa passione per Yu-Gi-Oh. L'ultima cosa che voglio fare è vendere tutto, perché non esiste vendere tutto. Da un momento nel quale so perfettamente quello che ho e il valore di quello che ho. Non ho intenzione di vendere tutte le robe che ho perché ho abbandonato semplicemente il gioco. Quindi di conseguenza può succedere che, per esempio, o smette di trattare Yu-Gi-Oh su questo canale, oppure che semplicemente non verranno più pubblicati video da me sul canale, insomma. Però l'intenzione di chiudere il canale non c'è, ragazzi, perché il canale l'ho chiuso una volta. Semplicemente perché il vecchio canale Gaming Tonight, che avevo nel 2018, aperto nel 2014, l'ho chiuso perché io volevo riutilizzare il nome Gaming Tonight, volevo ribrandizzare Gaming Tonight. Quindi di conseguenza YouTube mi costringeva, letteralmente, dato che volevo ripartire da zero, a dover cancellare tutto quello che avevo fatto sul vecchio GT per aperne uno nuovo. Perché se ci fossero stati due GT, buonanotte, la gente non sapeva più dove cazzo andare per trovare la roba. Quindi di conseguenza, ragazzi, diciamo che di chiudere il canale assolutamente no. Rimane una parte grossa della mia vita, assolutamente. Io tutti i video che feci nel vecchio GT ce li ho ancora salvati sul PC. Ho intenzione di lasciare tutto il mio creato di YouTube su YouTube, a meno che poi, ovviamente, YouTube non chiuda e lì rip, sparisce completamente GT. Però chiudere il canale non esiste. Però la possibilità che si possa arrivare a non pubblicare più video c'è comunque. Non vi dico che io pubblicherò video per sempre. Insomma, sono onesto, sincero. La possibilità c'è, quindi... Però al momento non ho minimamente intenzione di farlo. Giancarlo Puccio, su quali archetipi conviene puntare nel prossimo futuro? Cosa potrebbe diventare meta che ancora non è uscito da noi? Allora, archetipi sui quali puntare che stanno uscendo, che al momento sono ancora a me? Allora, sicuramente... Doremi c'è lo può essere un buon archetipo perché ha un mostro link molto interessante. Per Pendulum Magician e quindi io direi Pendulum in generale. È un archetipo buono sul quale potreste puntare. Potreste puntare su Abyss. C'è Ignister. Il punto è che Ignister non è così tanto forte, anche con i supporti che arriveranno in Lightning Overdrive, da diventare eventualmente meta. Quindi, di conseguenza, io ti dico, piuttosto che Ignister, Cybers in generale. Perché Cybers è uno di quei mazzi che lo vedo un po' come Pepe. Cioè, per Formapal all'inizio faceva cagare, tutti lo sdombavano. Poi sono uscite di botto tre carte forti, quattro, e il mazzo è diventato Tier Zero. Quindi, Cybers, secondo me, per la mole di carte che ha, può diventare veramente di punto in bianco, con un supporto ben, uno o due supporti ben oculati, un mazzo veramente forte. Inoltre, se volete puntare su un mazzo che al momento già esiste in TCG e che non ha ancora visto un'esplosione, Plunder Patrol, ragazzi. Veramente un ottimo mazzo. Purtroppo un po' schillato. Tanto schillato, in realtà, bisogna utilizzarlo bene. Però è un ottimo mazzo per il futuro, eventualmente. NKZ, Valkys, immagino sia. Quale archetipo, secondo te, ha gli artwork nel complesso più belli? Purtroppo questa non è una domanda alla quale posso rispondere in maniera oggettiva, perché l'arte è personale. L'archetipo che ha gli artwork che mi piacciono, anzi, ci sono due archetipi, che hanno degli artwork, secondo me, veramente belli. Quello più bello, bello, secondo me, è Adamantia. Adoro tantissimo i disegni di quel mazzo, veramente fantastici. Poi abbiamo Mekknight, anche che si difende molto bene, che ha dei disegni veramente incredibili, soprattutto Blue Sky e Purple Nightfall sono fantastici, e poi tutta la lore con... Vabbè, insomma, lo sapete. Però, se devo scegliere tra i due, preferisco, di gran lunga Adamantia. Secondo me Adamantia è, per il mio gusto, l'archetipo più bello mai disegnato in tutto Yu-Gi-Oh! Poi, vabbè, ce ne sono anche altri molto belli, vedi Infernoid, vedi Fluffal. Sono belli, mostri Fluffal. Preferiresti giocare un Going Second e dover partire primo, magari contro uno Zeus, o un combo con qualche Entrap e dover partire secondo? Preferisco assolutamente andare con un Going Second, il motivo per il quale io Lunalight l'ho sempre buildato. La mia prima intenzione di Lunalight è sempre stata quella di buildarlo come un mazzo Going Second o TK. Infatti, anche con Tiger, sì, io avevo tranquillamente le carte per andare primo. Facevo Azatoth, facevo tutta la combo di Lunalight, insomma, un po' più debole, perché non giocavo i Raideraptor, non giocavo nemmeno la combo per loccare di statua, non giocavo un po' di roba. Facevo Apollo Usa, Dweller, Reduer, Tornado, Dragon, con la differenza che appunto mi facevo Azatoth, mi paravo da tutte le HT e poi proseguivo con le giocate. Però l'intenzione principale del mazzo era andare secondo. Io infatti buildavo il mazzo per andare secondo, ci buttavo dentro un macello di Kaiju, un macello di Nibiru, tanto andando primo non briccavi, verosimilmente, perché Lunalight con Tiger riusciva a partire tranquillamente andando primo, perché aveva tutti i modi per prendersela la Tiger e per fare Marten, rimbalzo, magari te la evochi della trappola, perché sei partito con la trappola, sei partito un po' storto con la trappola, va bene, ok, evoco Tiger, effetto Kaleido, mando Marten, effetto Marten, rimbalzo Tiger, evoco Marten, e poi attivo Tiger per ribornare al cimitero. Insomma, si facevano cose veramente molto belle con Lunalight going first, però, devo dire che tra le due preferisco sempre di più il going second. Io infatti provo sempre a vedere se c'è un modo per il mazzo per andare secondo. Ovviamente mazzi che, andando secondi, hanno un palese deficit, una palese difficoltà, non sto tanto a provarci. Per esempio, Adamantia ha un going second verosimilmente di merda. Se lo riempi, come fai con Lunalight, con i Kaiju, Nibiru e cose del genere, rischi di non scoprire un cazzo. Quindi, l'eventualità di andare a going second è metterlo con i fossili, ma pure lì, è un po' mediocre. Quindi di conseguenza, dipende dai mazzi, però, di gran lunga preferisco andare secondo. Poi, questi cazzi dello Zeus, risparo Kaiju e Ciaone. È stato divertente. Chec. Da 1 e 10, qual è la possibilità, secondo te, che nella prossima banner del P andrà a 0? È un 7. Nulla di troppo esagerato, perché la prossima banner potrebbe veramente non toccare un cazzo. Curosidian, hai mai avuto il rimpianto di non aver acquistato un mazzo, prezzi bassi al day one, timore della banner, eccetera? Allora, di non aver mai acquistato un mazzo. Mai acquistato. In realtà, di non aver mai acquistato, no, perché comunque i mazzi, io alla fine che voglio farmi, me li faccio. Ho rimpianti di non aver giocato quei determinati mazzi, magari dall'inizio. Potrei farci un video dedicato su una top 5 di mazzi che avrei voluto giocare nel loro periodo di uscita, dal loro periodo di uscita, insomma. Ditemi se vi può interessare, perché ce ne sono abbastanza che mi pento di non aver giocato, soprattutto per determinati periodi. Claudio Cervo, vale la pena investire in Yugi in questo periodo, da me i local sono ancora chiusi, perciò ho deciso che non prenderò nulla finché non potrò tornare a giocare. Non sono uno disposto a spendere sul Duny per un playset. Allora, investire il gioco in questo periodo non è molto intelligente, a meno che il vostro local non stia adottando lo stile di gioco Remote Duel. Non vi consiglio di prendere carte soprattutto di valore in questo periodo. Io ho preso la Prosperity, per esempio, per giocarla in Adamantia e in praticamente tutti i mazzi che ho. È un investimento che mi son sentito di fare anche perché comunque giochiamo a Remote Duel, ogni local nostro è Remote Duel, quindi di conseguenza la posso sfruttare ed è una carta che sicuramente dà un power up. Inoltre verrà ristampata a qui da tra un anno e qualche mese sicuramente nel Megateen dell'anno dopo e quindi del 2022. E quindi di conseguenza quello che consiglio è riavvicinatevi al gioco se siete giocatori che hanno intenzione di ritornare magari tramite simulatori, test, giochi tipo Legacy of the Duelist poi quando si potrà effettivamente tornare a giocare con i local aperti prendetevi le carte perché io sono convinto che quando si potrà tornare a giocare Konami rilascerà un prodotto che conterrà tutte le ristampe delle carte che sono state stampate in questo periodo di Covid appunto per convincere la gente che voleva farsi quei mazzi magari e voleva tornare a giocare a tornare a giocare quindi di conseguenza secondo me si prospetta per il periodo post Covid per Yu-Gi-Oh abbastanza florido è una piccola mia scommessa vedremo se sarà effettivamente così perché ti piace così tanto Yugi so che può sembrare una domanda banale ma secondo me può essere interessante PS cos'è questo amore per Sky Striker che è un deck control e odio puro per Guru Altergeist e True Draco sempre deck control non troppo simpatici sulla falsa riga di Sky anche io odio questi mazzi ma anche Sky è nella lista allora partiamo prima dalla seconda di questi tre mazzi che mi hai citato Guru Geist e True Draco Geist mi piace perché l'ho anche utilizzato come mazzo abbastanza e mi piaceva utilizzarlo era divertente cioè divertente no diciamo che era rilassante più che altro Guru e True Draco li ho utilizzati anche cioè ho provato ad utilizzare Guru che aborto e ho utilizzato True Draco perché quando tornai a giocare e cominciai a giocare ogni tanto su Nexus utilizzai tipo Blue Eyes Chaos Max e un True Draco mi aprì il culo mi arò proprio e quindi provi ad utilizzare questo True Draco True Draco non mi piace perché molto semplicemente è una meccanica monkey flip non tutti i mazzi Control sono una meccanica monkey flip Sky Striker Altergeist Satellar hanno dei negate settati che durano per quell'azione basta e quindi di conseguenza te li devi gestire True Draco non è così True Draco si basta sui Flood Gate e i Flood Gate non sono divertenti per nessuno stesso motivo per il quale a mano in cuore Dweller è una carta che non sopporto Lancea Droll non le sopporto nonostante le gioco tantissimo perché comunque sono carte forti sono carte che puoi giocare e che effettivamente rompono il cazzo è proprio questo il problema del tu giochi questa carta e per tutto quel turno il tuo avversario non può fare questa determinata cosa è una cosa che non concepisco mi sta sul cazzo pesantemente quella di oh mio dio gioco questa carta quindi tu per tutto questo turno quello che dice questa carta non lo puoi fare è così antisportiva come cosa che non ce la faccio non la digerisco e ok va bene ogni tanto mettere nel mazzo Droll perché magari c'è il mazzo che è tier 1 che perde malissimo da Droll e la dancia tipo Dragon Link e quindi va bene va bene utilizzare Dweller ok perché comunque ci sono un sacco di mazzi che giocano nel cimitero e quindi di conseguenza Dweller praticamente ti fa vincere contro quelli e va bene è una ciliegina sulla torta su una board però stare a fare letteralmente setto 5 floor gate oppure setto 3 floor gate e 2 solenni per evitare che le mie floor gate vengano spaccate per non farti giocare setto Dirk & B setto Samo Limit setto Riverly setto Gozen setto Macrocosmo no 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 non ce la posso fare non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio veramente e quindi di conseguenza per questo motivo non mi piace true draco io sono di idea che i negate singoli sono belli cioè una damantia che magari ti conclude con dragite brawl savage apollo usa è bello ma una damantia che ti conclude con magari apollo usa brawl savage dueller dueller araldino non è bello stessa cosa e magari anche non lo so droll in mano no no droll sotto araldino non può essere tirato perché viene mandato quindi di conseguenza boh un'altra ht insomma cose del genere che fanno cose durante il turno oppure imperial order perdona quanto è sbagliato imperial order i negate singoli sono belli anche giocarci contro perché una volta che tu gli hai ribaltato quei negate singoli ok è finita lì e quindi finalmente posso giocare e cazzo sono forte ti ho ribaltato la board mentre i floor gate non sono divertenti i floor gate sono noiosi punto per quanto riguarda guru non lo sopporto come mazzo perché è letteralmente un mischione cioè hanno preso sub terror era una merda hanno fatto guru loro hanno preso guru hanno detto prendiamo queste quattro carte di archetipo le mettiamo insieme a 245 negate generici e vediamo che cosa ne spunta fuori e ne è spuntato fuori quella merda di guru control che non ha un cazzo di senso odio completamente e sono sincero odio completamente il concept di quel mazzo perché sono quattro carte di sub terror e tutto il resto sono carte per rompere il cazzo all'avversario e non la sopporto come cosa inclusive floor gate per quanto riguarda altri guys sky 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 lo adoro perché di base mi piacevano gli artwork all'inizio di sky striker e poi essendolo buildato mi piacevano era divertente a me manco zodiac dispiaceva e quindi di conseguenza la meccanica di mando via faccio link mando via faccio link mando via faccio link è bella proprio come zodiac fa normal metto sopra exis metto sopra exis metto sopra exis metto sopra exis secondo me è simpatica come cosa nonostante mandi un po' fanculo l'idea base della meccanica che stanno seguendo altergeist boh mi sta abbastanza simpatico per quanto riguarda perché mi piace così tanto yugioh è una cosa che onestamente non me lo sono mai chiesto è un gioco di strategia è un gioco che ho conosciuto diverso tempo fa ci sono legato a questo gioco è come chiedermi perché ti piace pokemon perché mi piace alla fine la cosa più bella è che non sai dare una spiegazione al perché ti piace una cosa che ti piace quindi di conseguenza niente yugioh mi piace perché è un bellissimo gioco secondo me ho provato anche a giocare altri giochi di carte perché in realtà magic è molto bello forse will è bellissimo pokemon non mi fa tanto impazzire come gioco di carte mentre gioco di pokemon e anime di pokemon lasciamo stare la mia vita letteralmente e quindi di conseguenza non trovo una risposta specifica a questa cosa semplicemente mi piace e non penso che sia nemmeno tanto sbagliata come cosa perché non c'è cosa più bella di dire mi piace questa cosa perché perché non lo so mi piace e basta riccardo ostuni deck sconosciuto ma che ti diverti a giocare oddio luna light era abbastanza sconosciuto però poi è diventato meta quindi di conseguenza la gente lo ha giocato fluffal non lo posso nominare perché comunque c'è una bella community dietro deck sconosciuto che mi diverto a giocare ti potrei nominare x saber però anche x saber ha una bella community dietro quindi di conseguenza te la do come risposta ma non so se la puoi far valere rocco nunziata scrive rose o rai voglio una risposta argomentata e io ti rispondo perché non entrambe no seriamente io dico sempre rai e best waifu perché c'è sta cosa delle parigine che mi piace tantissimo e quindi di conseguenza appena vedo personaggio con parigine o calze in generale dico wow ok perché non entrambe c'è rose è veramente molto bella quindi io sono più affezionato a rai anche perché esiste da più tempo il mosso sul quale si basa skystriker tutti infatti tutti gli uprocks sono su di lei i mostri di extra sono lei che indossa varie armature quindi di conseguenza ti dico rai per questo motivo è perché a me piacciono le bionde con gli occhi azzurri e le parigine e rai c'è tutte e tre e niente ok di base poi per carità non ho mai avuto una ragazza bionda con gli occhi azzurri ma va bene in ogni caso ragazzi questo era il mio video Q&A ovviamente non ho risposto a tutti perché ragazzi sennò sarebbe venuto un video da un'ora e mezza suppongo e anche perché molte domande sono che cosa ne pensi di questo mazzo pensi che questa cosa possa diventare meta in futuro no non risponderò a quelle cose già ve l'ho detto ragazzi noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video spero che il video vi sia piaciuto e se volete scrivetemi qua sotto altre domande per un eventuale futuro Q&A magari tra un paio di mesi ne porto un altro arriverà la mia collezione dei mazzi non vi preoccupate una volta all'anno non la devo portare quindi di conseguenza dato che l'anno scorso è uscita per giugno boh non lo so se quest'anno la porto a maggio o giugno comunque arriverà noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video come al solito ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti